Una vacanza a Tirana ha soli 28 euro a testa. Metti un like e seguimi se vuoi anche tu risparmiare. Sulla nostra piattaforma Tirana dal 6 al 12 agosto per due adulti con un risparmio del 60% in questo 4 stelle vai a pagare meno di 28 euro a testa in questa struttura con piscina al coperto. Ma se andiamo su Booking per le stesse date, due persone e lo stesso hotel vai a pagare 239 euro. Per avere questi prezzi e l'accesso alla nostra piattaforma vai nel mio Instagram, clicca nel link che trovi in bio, scorri fino in fondo, guarda il video e clicca su accesso alla piattaforma.